buongiorno a tutti da SP Call siamo pronti a iniziare una nuova stagione di caccia se ce la lasciano iniziare ovviamente abbiamo un sacco di idee un sacco di video da pubblicare ma quest'oggi voglio farvi vedere il video che ho realizzato insieme all'amico Emiliano totalmente impostato sul chioccolo per tordo bottaccio Emiliano è un eccellente chioccolatore e ha portato all'estremo diciamo tutte le potenzialità del chioccolo SP Call schiamazzo cantata abbinamento con l'allocco e quant'altro e niente lascio la parola a Emiliano anzi il suono Emiliano visto che è stato veramente bravo e un saluto a tutti da SP Call un saluto a tutti 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 un saluto a tutti